Salve a tutti e bentrovati a un'altra pillola di benessere. Oggi cercherò di farvi capire perché io e tutti i miei colleghi nutrizionisti non facciamo altro che ricordarvi dalla mattina alla sera dell'importanza di bere acqua, almeno due litri al giorno. In realtà se noi andiamo a vedere quella che è la composizione corporea di un individuo medio, diciamo 65 kg, andremo a vedere come la parte da padrone la fa l'acqua, ossia il 65% del peso è acqua. Oltre a questo importante elemento che non è un nutriente, però possiamo benissimo classificarlo come nutriente, non è un nutriente perché non apporta calorie, però sicuramente fa la parte da padrone nella composizione corporea di un soggetto, insieme all'acqua troviamo le proteine in una percentuale del 16%, i lipidi 13%, i glucidi, ossia i carboidrati l'1% e poi troviamo sali minerali e vitamine. Per quanto riguarda le proteine, i carboidrati e i lipidi possiamo dire che sono dei macronutrienti, ossia sono dei nutrienti che devono essere presenti quotidianamente e anche in quantità abbastanza importanti. Mentre per quanto riguarda le vitamine e i sali minerali, diciamo che sono degli elementi che svolgono dei ruoli importantissimi, sono cofattori di moltissime reazioni biochimiche, molte vitamine regolano dei meccanismi fisiologici molto importanti, però sono dei micronutrienti perché per esplicare la loro azione sono necessarie piccole quantità di questi composti. Invece oggi vorrei soffermare la vostra attenzione sull'acqua. Come abbiamo detto 65% del peso di un individuo di 65 kg è costituito da questo elemento, questo elemento che deve essere ovviamente apportato dalla dieta ma anche dall'introduzione di bevande, bevande che sono sicuramente l'acqua ma anche succhi di frutta, tè, possibilmente verde, oppure la frutta e la verdura che sono molto ricche di acqua. Perché dobbiamo introdurla dall'esterno? Perché fondamentalmente quando parliamo di acqua parliamo di bilancio idrico, ossia dobbiamo pensare all'acqua che noi introduciamo nel nostro corpo ma anche l'acqua che quotidianamente esce. Dobbiamo pensare che perdiamo acqua in maniera impercettibile dalla cute e dai polmoni mediante la respirazione, perdiamo acqua con le feci e soprattutto perdiamo circa un litro e mezzo di acqua al giorno con l'urina. Quindi se dobbiamo bilanciare queste perdite giornaliere è ovvio che dobbiamo introdurre almeno due litri d'acqua sia con gli alimenti ma anche l'acqua che viene prodotta dal metabolismo di tantissime reazioni biochimiche che avvengono nel nostro organismo. In realtà arrivare a bere due litri d'acqua è molto semplice ed è anche intuitivo pensare come se un soggetto avrà un apporto idrico ridotto anche la produzione per esempio di urina sarà proporzionale alla quantità di acqua introdotta. Per questo noi consigliamo che per favorire la diurie sia sempre bene bere acqua. Magari a volte ci si chiede ma qual è la migliore acqua? Acqua quella in commercio, acqua potabile, magari delle fontane. In realtà trovandomi sempre di fronte persone il cui primo motivo che si rivolgono a me è proprio quello che sono persone molto disidratate, andando a fare la votazione antropometrica, ci rendiamo conto che è un soggetto quasi disidratato, è bene introdurre acqua o comunque far sì che dato che va distribuita nel corso della giornata non possiamo pensare di bere due litri d'acqua tutti contemporaneamente, è bene dilazionare quindi io consiglio le bottigliette oppure consiglio di contare i bicchieri. Si può benissimo bere anche l'acqua mentre si panza o si cena, non è un problema di digestione, anzi in alcuni casi alcuni tipi di acqua possono favorire quella che è la digestione. Dovremmo porre un pochino più l'attenzione invece su quelle che sono le acque effervescenti che magari in soggetti con alcune patologie possono andare a peggiorare il quadro patologico stesso. Inoltre ho detto che non solo l'acqua di per sé è importante ma anche tanta frutta e verdura, ci sono tantissimi cibi ricchi in acqua, pensiamo all'anguria, pensiamo anche alle banane stesse, alle mele, le pere, tantissime verdure a foglia verde sono costituite almeno al 60% di acqua. È intuitivo pensare come dobbiamo fare anche una differenza che se noi queste verdure le cuociamo a mo' di minestra, quindi cuociamo la minestra, apportiamo, aumentiamo anche quello che è il liquido di cottura stesso, nel quale troveremo tantissime vitamine e sali minerali che bene o male con la cottura possono perdersi però riusciamo a mantenere se le introduciamo, allora vuol dire che abbiamo fatto un pasto corretto. L'apporto idrico quindi ricordiamocelo è bene che sia molto frequente nell'arco della giornata e accompagnato quindi a tutti i nutrienti, quindi ricordiamo tutti i giorni dobbiamo assumere i carboidrati, dei lipidi e delle proteine. Anche per oggi il tempo è a nostra disposizione ultimato, io ringrazio in cabina di regia Luca Chito e vi aspetto alla prossima pillola di benessere. Arrivederci!